Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu! Nell'episodio di oggi io e come potete vedere il mio Shiny Golduck raggiungeremo l'isola Cannella. Iniziamo! Eccoci con un velocissimo teletrasporto. Siamo arrivati a Fuxiapoli, che è il nostro punto di partenza. Dobbiamo andare in basso, dove c'è la spiaggia, che dovrebbe essere da questo lato. Ah, eccola qua. Ci siamo arrivati. Da questa parte c'è da sconfiggere un po' tutti questi nuotatori e prendere il largo da questa parte. Sconfiggiamo il primo nuotatore. Prima di nuotare bisogna fare il riscaldamento! Consigli preziosi, come al solito. Come potete vedere, la medaglia che abbiamo vinto con Sabrina l'ho aggiunta qui sotto. Le altre due, che ci mancano ancora, rimangono opache. Richard, nuotatore, con un solo Pokémon. Starmie! Wow! Io davanti chi ho? Golduck! Non è proprio il match-up perfetto. Guardate come sbrilluccica il mio Golduck Shiny! Niente di bello contro Starmie! Quasi quasi, io sostituirei. Metterei davanti un grassissimo Pikachu! Che anche se si prende una mazzata non fa niente. L'uso psichico! C'era da aspettarselo! Non male, ma non forte quanto un mega sprint a boom in the face. Boom! Esploso! Possiamo proseguire, sconfitto Richard. Ora sì che mi sono riscaldato, però gli esce il moccelo dal naso. Sembra come se si sia raffreddato piuttosto. Ok, dunque, adesso dobbiamo andare in acqua. Sì. Pikachu va sulla tavola da surf. Una cosa che volevo assolutamente provare è vedere se facciamo uscire un Pokémon d'acqua che cosa succede. Golduck non ne sono certo che possiamo cavalcarlo. E infatti no. Però io vorrei farvi vedere una cosa troppo bella. Quindi farei un attimo una sostitution. Quindi possiamo levare Charizard e mettere Gyarados. Ora vi faccio vedere una cosa. Se lo facciamo uscire dalla Pokéball è una figata. Pazzesca! Guardate! Vi rendete conto quanto è bello? Possiamo cavalcare Gyarados. Voi come dite ragazzi? Perché io sono in imbarazzo. Gyarados, Gyarados, come dite? Non lo so. Boh. Io ho sempre detto Gyarados. Però effettivamente si scrive Gyarados. In acqua possiamo trovare poi tutta una serie di Pokémon di tipo acqua. Chiaramente. Come vedete c'è un Tentacool che gira. C'era prima uno Staryu. Un Magikarp lì sopra. Insomma, vari Pokémon d'acqua. Continuiamo le nostre lotte. Nuotare è bello. Scottarsi dal sole invece no. Sì, certamente. Ok. Come abbiamo detto, i Pokémon sono tutti di tipo acqua. Quindi è infatti Goldak. Guardate la differenza tra Goldak e Shiny Goldak. Visto così, eh? Qui si nota tantissimo la differenza. Ora, io direi di fare ancora una volta una sostituzione. e poi dopo di mettere direttamente Pikachu davanti per evitare di dover fare sempre avanti e indietro mentre ci scontriamo con i Pokémon di tipo acqua. Ci becchiamo nel frattempo una Hydro Vampata che tanto tanto bene non fa. Cioè, Pikachu si è fatto discretamente male. Esploso. Ce n'è ancora un altro. Vediamo chi altro ha. Goldak è andato. Un sacco di exp, eh? Ultimamente, quando si sconfiggono anche i Pokémon avversari. Cloister. Continuiamo a lottare. Anche se c'è il doppio tipo con ghiaccio. Neanche ghiaccio, ma direi che con un tuono dovremmo farcela easy. Yes. Ok, sconfitta. La nuotatrice. Il mio Tmonchan sale al 34. L'ho messo in squadra proprio per farlo salire. Ho le vertigini. Poverina, mo' affoga. Io credo di dover andare in basso e poi a sinistra di qua. Ok. Quindi, dovrei andare di qua. Sì, da qua si può scendere effettivamente. E si arriva sull'isola Spumantina. Sulle isole Spumantine. E qui c'è la grotta. E io devo per forza passare dall'altra parte. Servizio ambulante di pozioni. L'aiuto che cerchi a portata di mano. Questa qui vende pozioni. Non mi devi nulla, offre la casa. Il Pokémon Market sa sempre come ricompensare i clienti abituali. Ah, ok. Quindi mi ha curato. Praticamente. Vediamo. Qui si entra alle isole Spumantine. Si entra nella grotta. E io credo di dover arrivare per forza dall'altra parte. Probabilmente sì. Per caso è facile uscire dall'altro lato. Se non dovesse essere facile sarebbe un po' un problema. Perché i nostri programmi cambierebbero. Allora, lo scontro con questo qui ce lo facciamo perché generalmente ci dà delle MT. Sei sorpreso? Ebbene sì, noi coach ce ne stiamo anche in posti come questo. Vuoi sapere perché? Beh, a dirla tutta nemmeno io lo so con esattezza. Qui non c'è molto da fare. Posso proporti una lotta però. Che ne dici? Ci sto. Fantastico, questa era la risposta che volevo. Cominciamo allora. Forza! È come se volessero depistarmi. Cioè per dirmi. No, figurati qui non c'è nulla. Ma in realtà sappiamo che qui dentro da qualche parte c'è Articuno. E lui c'ha un Pokémon tipo elettrico. Che non ha senso. Non saprei cosa utilizzare. Quasi quasi lo sostituirei. Ma non saprei neanche bene con chi. Potrei mettere Snorlax. Sì, e fargli breccia. Tanto Snorlax, anche se si prende un'ammazzata da questo Jolten, non è un grosso dramma. Eh beh, tuono. Tuono non male, eh. Sicuramente mi fa maluccio. Eh sì. Mi ha tolto parecchi HP, ma Snorlax ne ha veramente troppi. E mi becco un altro tuono. Chiaramente Jolten è velocissimo. Come al solito. Guardate che ammazzate che ha preso. Oh no, si è paralizzato. Uh, per fortuna parte l'attacco. Che però non l'ha fatto fuori. Snorlax evita l'attacco e usa breccia. Grande Snorlax. Eh però, purtroppo, non è bastato. Ma io gliene faccio anche un'altra. Eh, mi becco un tuono. Povero, povero Snorlax, quante ammazzate. Paralizzato, non può agire. Ok. Io direi che a questo punto possiamo anche cambiarlo. E possiamo fare entrare Venusaur. Eeeh, Venusaur gli può fare la qualunque. Dopo essersi beccato anche lui un tuono. Stang. Ai 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 ai. Eh, mi ha paralizzato di nuovo. Che fortuna che ha. Vabbè, speriamo che parta l'attacco. Un mega assorbimento, magari. Dai dai Venusaur che ce la puoi fare. Uh, ha evitato l'attacco e parte il nostro mega assorbimento. Ok. Quindi Jolton è andato. Vediamo chi altro ha. Dopo avermi paralizzato praticamente tutta la squadra. Vediamo un po'. Goldack sarà al 42, il che è sempre un bene. La prossima scelta è Flareon. Ok, ora possiamo cambiare. E mettere finalmente il nostro Goldack Shiny per provare il suo attacco Surf. Immediatamente. Mi sa, mi sa che questo qui ha Jolton, Flareon e il terzo sarà Vaporeon. Probabilmente. Mai incontrati tutti quanti. Forse uno ad uno. E non ricordo neanche se ho mai incontrato Vaporeon. Probabilmente Jolton e Flareon sì. Wow wow wow. È matto. Guardate mi ha fatto malissimo. E non è neanche efficace. E mi ha pure scottato. Vabbè. Eh sì. Un sacco di scottatura. Sono veramente super ustionato. Vi facciamo un'altra volta Surf. Dovrebbe bastare. Oh K. Vediamo un po'. Sicuramente Vaporeon. Vediamo un po'. Venusaur sale al 49, diventa enorme. Ascoltatura a tutta potenza. Prossima è Vaporeon. Ma guarda un po'. Cambiamo e facciamo entrare Brufoluz. Sempre vestito in maniera ridicola. Vaporeon. Nivello 46, anche bello grosso. Mi facciamo Sprint a Boom. Vediamo se è sufficiente. Probabilmente no. Rimarrà con qualche po' di HP. No. L'abbiamo devastato. Come l'ho detto. Ok. Perfetto. Vediamo che cosa ci dà. Il simpatico amico coach. Sconfitto Win. Povero me. Devi chiamare Lose. No Win. Poverino. Allora. Per ringraziarti di essere venuto fin qui. Ti darò un regalo speciale. Ah. Cinque caramelle rare. Come l'ho detto. Va bene. Che gioia quando il portacaramelle è pieno di caramelle di tutti i tipi. Non trovi? Sì. Certo. Prendiamoci un po' di tempo per dare una sistemata ai nostri Pokémon. Di qua si fa il giro. Ma c'è un seal. Io non ce l'ho seal. Catturiamolo. Bellino. E anche piccolo. Un piccolo seal. Preso al primo colpo. Catturato seal. Un po' di punti expo per tutti. Snorlax sarà al 48. Perfetto. Aggiungiamo seal al Pokédex. Ale. Ok. Ok. Sicuramente non da qui. Vediamo. Pikachu vuole dirci qualcosa. Oh. C'è qualcosa che non va. Brufalo percepisce una certa tensione nell'aria e non riesce a muoversi dalla paura. Ci sarà magari Articuno da queste parti? Pericolo. Attenzione alle rapide. No. Ci sono le rapide. Oh. C'è una Slopock. Io non ce l'ho. Ok. Catturiamo Slopock. E... Opla. Tiri ottimi. I miei tiri eccellenti si stanno un po' facendo desiderare. Preso Slopock al volo. Abbastanza semplice. Un po' di exp. Nessuno sale di livello. Vorrei far salire Itmonchan il prima possibile. Aggiungiamo Slopock al Pokédex e proseguiamo. Le rapide saranno da là. È come se da lì venissimo trascinati. E non possiamo controllare la corrente. Dunque vediamo di qua. C'è qualcosa ancora? Suggerimento. Usando i blocchi di pietra si può mutare il flusso dell'acqua. Ok. Wow. Un Dugong direttamente. Quindi non mi devo sfiancare a far evolvere Seal. Il che è sempre un bene. Borsa. Per l'occasione io metterei una Ultra Ball. Siccome si muove come un dannato gli diamo anche una Bacabana. Bacabana. Bacabana ti. Sta calmo. E hop. Tiro ottimo. Con Bacabana. Due. Tre. Preso il primo colpo. Dugong. Adesso becco un sacco di exp sicuramente. Quasi un K. Hitmonchan sale. E anche Brufolo ormai è una macchina da guerra. Aggiungiamo Diogono al Pokédex. Comodo. Non mi devo occupare di Seal. Dunque. Allora. Le rapide da qui spingono verso il basso. Guardiamoci prima un attimo intorno. Perché da qui ci sono altre cose. Le rocce. Si possono spostare da una parte all'altra come ci ha suggerito il cartello. E forse muovendo quelle rocce possiamo fare qualcosa con l'acqua. Ah ok. Forse credo di aver capito che se butto questo qui giù può cambiare il corso dell'acqua. Vediamo. Se buttandolo giù. Cade? Eh si cade. Ok. Chiaramente qui si fa così. Piuttosto che come avevo fatto prima. Perché questo blocco qua. Lo possiamo far andare avanti. No. Ho sbagliato? No. Va bene. Possiamo fare così. No. Lo faccio tornare un attimo indietro perché. Devo spostarmi questo qui che mi sta tra le scatole. E questo qui. Poi lo faccio andare avanti di due. E lo faccio andare sotto. L'altro è rimasto sotto. E vediamo se così va. È cambiato qualcosa. Ma ci buttiamo anche noi di sotto? Oh. Finiti in acqua. Guarda Pikachu. Ci ha salvati. Qui c'è qualcosa. Ancora una presenza inquietante. Sì. A quanto pare sì. Lui ha paura. Gli devo fare una coccola magari. Boh. Così si sente meglio. E qua posso andare. Ma da qui. Ok. Questa è la parte che prima era circondata dalla corrente. E non potevo andare. Ah ecco perché Pikachu era così stranito. Perché qui su ragazzi c'è Articuno. Quindi magari. Piuttosto che ripeto. Andare a l'isola Cannella. Ma cattureremo Articuno nell'episodio di oggi. Cerchiamo di affrontarlo. Credo che ce la possiamo fare. Dobbiamo solamente un attimo organizzarci. Snorlax potrebbe restare. Perché anche lui ha fulmine. Proviamo a mettere Charizard. E proviamo ad andare a sconfiggerlo con questa squadra qui. E ovviamente anche a catturarlo. C'è un'animazione. Una specie di cat all'inizio. Minacciosissimo. Pikachu è terrorizzato. Oh. Ha congelato perfino lo schermo. E' apparso Articuno. Ok. Pikachu dovrebbe spaccarlo. E' di livello 50. Quindi sì. Diciamo di sì. Ma non è che proprio andrà facile. E invece sì. Super facile. Mi ero premunito. Geloraggio. Boah. Guardali che male. Però. Inutile premunirsi. Adesso la cosa difficile. Dopo averlo sconfitto. Con due colpi. Perché il mio Pikachu è enorme. La difficoltà sarà catturarlo. Adesso parte il menu di cattura. Questa è la tua chance. Cattura Articuno. Borsa. Gli diamo una bacca. E proviamo con le Ultra Ball. E opla. Eh. Beccare il cerchio non è esattamente facile. E infatti è uscito per ora. Quindi borsa. Vediamo un'altra bacca. Velocemente. Sperando che non si sposti. Così posso fare un tiro magari migliore. Eh no. Inizia di nuovo a spostarsi. Mmm. Non mi piace. Che si sposti. Vediamo se si ferma. Prima o poi. Fermati. 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 Maledetto. Niente. Si vuole continuare a spostare. È difficile beccarlo al cerchio. Ecco. Adesso è la mia occasione. E oh. No. Che tiro pessimo. Ah. Devo concentrare. Tiro pessimo. Proviamo a tirare a caso. No. A caso non funziona. E oh. Cerchiamo di tirargli quante più Poké Ball è possibile. Non è che ho Ultra Ball infinite. Magari mi capiterà di catturarlo con una Mega Ball piuttosto che con una Ultra Ball. Ok. Perlomeno ho fatto un tiro ottimo. Lui è un po' in alto. Quindi non è esattamente facile tirare verso l'altro. Io gli do sinceramente un'altra banana che ne ho in surplus. Almeno posso bloccarlo al centro. E posso provare a fare dei tiri migliori. E oh. Eccellente. Ok. Ho mirato leggermente più in alto. Ed effettivamente la Poké Ball mi ha dato soddisfazione con il tiro. Ha seguito i miei movimenti. Adesso anche troppo. Ah. Ora inizia a muoversi. Io gli do un'altra banana ragazzi. Perché così non si può. Appena arriva al centro gli tiro la banana. E oh. Adesso. Ok. È più o meno al centro. E dai. Mamma mia. L'ho tirata sulla luna. Via. No. Si è riniziato a muovere. Che rottura di scatole. Due. Tre. Inspiegabilmente preso. Evviva il gioco dei Pokémon. Si gioca così. Soltanto 800 punti EXP. Mi aspettavo molto di più. E abbiamo catturato il nostro primo uccello leggendario. Perché ce lo siamo trovati. Praticamente tra i piedi. Ok. Giaccio volante. Articuno. Benissimo. Pikachu. Magari si sente meglio. Si. Super felice. Brufalo guarda con occhi radiosi la Poké Ball che è appena usato. Diamo io una coccola. Visto che sta meglio. Benissimo Pipolini. Dopo aver catturato per puro caso Articuno. Direi che per oggi possiamo fermarci qui. Come al solito se questo episodio vi è piaciuto. Ma anche se non vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale. Lasciatemi dei commenti. E spaccate quel pulsante like. Ciao. 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 Grazie.